L'accidente guidato dall'America ci considera criminali! Se l'11 settembre è stata la madre di tutti gli attentati, noi organizzeremo la madre della madre di tutti gli attentati! La nonna di tutti gli attentati! Molto bene, tenente. L'obiettivo si trova in una stanza al primo piano. Armare il Golia! Signor, sì, signore! Che diavolo sta succedendo? Ma che roba è? Ci siamo impossessati di un satellite e lo abbiamo puntato sullo stadio! Non si distengono neanche i giocatori! Va meglio, eh? Francesco, sbagliati! Inizia! Che cazzo... Roma Est, però, pensavo peggio! Pensavo... Ma non è giusto! Allora, ci vogliamo dare una cosa? Ma il rigore! Siete autorizzati all'uso della forza! Fermate quei bastardi ad ogni costo! Li voglio a Guantanamo o in una bara! Per fortuna che siamo i buoni! Penso se fossimo stati cattivi! O tuoi amici, Ugo! Solo tu puoi aiutarli ormai! Fermate tutto l'uomo! Esce amici, fermalo! Fuoco! Riuscirà il nuovo trailer ad entrare in classifica? Al decimo posto, The War, il pianeta delle scimmie! Al nono posto, Thor, Ragnarok! All'ottavo posto, Spider-Man, Homecoming! Al settimo posto, Baby Driver! Al sesto posto, Atomica bionda! Al quinto posto, Valeria, nella città dei mille pianeti! Al quarto posto, Scappa, Get Out! Al terzo posto, Star Wars, Gli ultimi Jedi! Al secondo posto, Dunkirk! E al primo posto, It! E questa è la classifica aggiornata! Per vedere se la classifica cambierà, non perdetevi i prossimi trailer! E per saperne di più su questo film, visitate il nostro sito, blog.screenweek.it! Ciao!